ciao ragazzi oggi vi farò vedere un carinissimo progetto fatto con tubi galleggianti per piscina e sì allora andiamo a decorare il nostro caminetto lasciando la possibilità di aggiungere altri oggetti carini e senza dover spostare niente iniziamo con questi tubi galleggianti li ho tagliati da una parte a così che possiamo poi andare ad inserirli nel legno che forma il nostro ripiano del caminetto misurando bene i pezzi senza incollare e senza niente questo è un modo carino da decorare perché di solito i caminetti piace a noi decorarli per natale però è carino anche in primavera no e possiamo aggiungere qualche tocco di pasqua come vedrete allora sto usando dell'edera che è formata da piccoli anelli e questi anelli mi danno la possibilità di poi andare ad inserire i fiorellini senza dover incollare niente ho cercato di incollare qualche pezzo qui e lì però la spugnetta che forma il nostro tubo galleggiante comunque si squaglia un po troppo con la colla ma aggiungendo solamente questi fiorellini gambetti nel nella spugna è abbastanza per sostenerli così andiamo a ripetere lasciando uno spazio tra un fiorellino e l'altro di circa 15 centimetri mi sto concentrando più che altro ad usare gli stessi colori non necessariamente tutti gli stessi fiori so ho usato un miscuglio di margherite hortensia tulipani e così via papaveri perché a noi piacciono tantissimo i nostri papaveri e come vedete non ho dovuto togliere né il quadro lì su e nient'altro anzi andremo ad aggiungere altre cosine carine che faremo insieme perciò assicuratevi che siete iscritti al mio canale così potrete vedere tutti i nostri tutorial adesso come vedete sto aggiungendo altro verde sempre per nascondere comunque il il sotto che a me è nero comunque potrebbe essere di qualunque colore che poi alla fine non si vede non si vedrà adesso sto semplicemente aggiungendo delle foglie che sono di circa 15 20 cm il ramo e andiamo a metterlo alla parte superiore e un po anche alla parte di sotto però quello che voglio cercare di fare è assicurarmi che la maggior parte dei fiori e comunque del peso rimanga alla parte superiore e così andiamo ad inserire tutto e adesso sto aggiungendo dei tulipani che sono comunque piccoli non sono tulipani di misura normale e cominciamo ad introdurre altri colori come vedete adesso sto mettendo i nostri papaveri rossi e non sto seguendo nessuna maniera nessuna maniera particolare di mettere i fiori voglio solamente assicurarmi che tutto sia omogeneo e carino quando l'occhio si sposta da destra verso sinistra adesso ancora andiamo ad aggiungere altro verde che poi queste foglie non sono solamente verdi ma hanno un rosa una tonalità bellissima e sto praticamente solo inserendo senza fissarlo con niente perché comunque facendolo in modo ondulato come uno zig zag praticamente si regge da solo tra gli altri fiori e così ancora di nuovo stiamo aggiungendo un po di colore nella parte centrale ho aggiunto degli spilli a forma di u per sostenere un po le foglie perché comunque non voglio che continuano a cadere dalla parte di sotto e ogni volta che aggiungo qualcosa di nuovo vado tutto il tragitto da destra a sinistra assicurandomi che è tutto coperto con il colore che va da tutte le parti e poi ho trovato questi funghetti poi così carini sono di plastica comunque stanno benissimo perché aggiungono un altro tocco di colore e di nuovo non sto incollando niente perché la spugna del nostro galleggiante da piscina è resistente e forte abbastanza ma è anche altrettanto facile da introdurre piccoli ramoscelli e adesso sto introducendo l'ortensia che è un fiore abbastanza grande perciò occupa molto spazio ma è comunque leggero perché di nuovo alla parte di sotto della nostra acconciatura non voglio troppo peso e comunque come vedete tutto rimane fisso non è che si sta muovendo niente nel mentre che stiamo sistemando adesso ho trovato questi tulipani lilla troppo carini e perché no e aggiungiamoli so come vedete sto usando tantissimi tipi di fiori diversi colori perché comunque è primavera e adesso aggiungerò qualche piccolo tocco di pasqua che poi sarà facilissimo toglierlo dopo pasqua ecco vedete il mio coniglietto è troppo carino e andremo ad aggiungerne anche un altro che poi di nuovo vedete non sto incollando niente e subito dopo pasqua posso rimuovere i coniglietti e le uova che adesso mi vedrete aggiungere e comunque lasciare sulla mia composizione primaverile estiva posso lasciarla fino a che non sono pronta a decorare il mio caminetto per che ci sta dopo l'estate l'autunno e poi faremo altre acconciature da metterle non so se avete fatto caso all'inizio del video ma il mio caminetto gira anche dall'altra parte so faremo delle acconciature carine anche da quella parte e poi ecco mi allontano un po' sempre per vedere un po' più da lontano se magari c'è qualche vuoto che si deve riempire e se avete già dei fiorellini finti in giro per casa questo è un progetto perfetto per usare tutte le cosette che magari non avete usato per altre acconciature che oddio mo che ci faccio con tutta sta roba questo è perfetto perché come vedete non ho usato lo stesso di tutto ho usato un miscuglio di fiori perché è primavera se guardiamo se andiamo un po' in giro per i campi ci sono tutti questi fiori naturali così non è che è tutto lo stesso ed ecco tutto finito guardate quanto è carino colori primaverili estivi tutto ciò che si può lasciare fino alla fine dell'estate spero che questo tutorial vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al mio canale ciao a presto